bella raga oggi siamo su pokemon platino per andare a catturare il dio arceus raga è il mio solo nel cassetto catturare assolutamente dio arceus cioè arceus scusatemi intanto sto usando uno dei miei pokemon per per trovare un ostacolo qui sul monte corona fa parecchio freddo e infatti ok dai sbrigati però dobbiamo andare sul monte corona va la dai su 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 è da quella parte raga no qui c'è solo una trappola ok forse di qua proviamo e infatti siamo ancora qua però col cavolo che torniamo cioè dobbiamo ancora andare che cosa sta facendo che io non riesco a controllare il mio porca vacca cosa ho visto allora nella borsa abbiamo parecchia roba quindi non sto utilizzarla e quindi ok torniamo un attimo lì e cerchiamo di andare su monte corona molto veloce perché io ne ho veramente bisogno di catturare il dio arceus raga nel mio solo nel cassetto catturare arceus perché è da anni e da anni che sto giocando a pokemon platino ok abbiamo un parecchia roba in squadra e penso che dovremmo andare su monte corona ok siamo su monte corona arrivo suoniamo il flauto dei cieli ok ragazzi abbiamo suonato il flauto dei cieli è comparso una scala wow la supporta sulla piattaforma di arceus piano che le scale sono parecchie wow siamo veramente molto in alto parecchio in alto ok voglio osservare il gioco si salva andiamo piano ti prego pia cos'è cos'è arceus è lui raga è lui oh no quello è il simbolo degli scp raga ok questo è il dio arpar arceus vai reglus ok reglus abbiamo c'è vi spiego come si come si devono pronunciare in parecchi modi arceus ciprin dice no liberraggio porca vacca c'è mi sta togliendo va la allora come stavo dicendo no allora io ho dato tu un'onda vi spiego che arceus si pronuncia in vari modi il primo è arceus per noi italiani archias per i greci archius in latino poi poi com'era la no vabbè reglus ha usato forza allora vi spiego perchè arceus non lo puoi catturare subito perchè è un pokemon che si può curare bene ho usato troppo forte quindi arceus è in grado di curarsi da solo quindi è difficile catturarlo intanto l'abbiamo messo a vita gialla e la seconda secondo le leggende arceus è il dio dei pokemon ok stai usando scintilla non è che lei è paralizzato bella peccato che reglus non si può curare da solo però sarebbe bellissimo che reglus si può curare vabbè prima di usare la master ball direi di utilizzare la ultra ball perchè la ultra ball potrebbe funzionare perchè ci sono vari modi che puoi catturare il dio archias o arceus però è meglio arceus vai ultra ball dai dai no per poco se mi arrabbio di più per arceus cosa sta usando rifrescata forse si sta curando ragazzi eh infatti cosa usa divinazione eh vabbè c'è raga non so come svegliarvi perchè arceus è l'unico può curarsi e è a livello 80 anche se il dio dei pokemon deve essere a livello 100 invece reglus è a livello 73 quasi a livello di arceus quindi è probabile che non puoi usare né la ultra ball né la timer ball né la score ball perchè devi usare solo la master ball una pozione max per curare reglus vai bello curati ok si sta recuperando ti prego non curarti arceus arceus selvatico è paralizzato bene ora cosa possiamo fare per reglus ci sono nell'anniversario di arceus cioè il 2 agosto potete trovare sul gamestop eh chi è che ho preso ma vai ultra ball 1 2 vaffanculo non riesco a catturarlo mi sa che ha mangiato qualche chiletto cosa stai usando ancora rifrescata ma sei scemo oh cos'hai divinazione no mi sta togliendo reglus allora come dicevo che cosa stai usando tononda bene come dicevo che nell'anniversario di arceus cioè il 2 agosto e alla fine di agosto c'è l'anniversario della creazione di arceus del cinema quindi è probabile che nel gamestop potete trovare un codice dove potete prendere arceus cosa stai usando vai ultra ball dai dai no per poco voilà e quindi cosa stai usando no non sto capendo raga cioè vado troppo veloce è probabile che potete trovare trovate tutti i giocattoli di arceus vai ultra ball dai dai no però per poco potete trovare i giocattoli di questa rinfrescata ma vaffanculo cioè probabilmente potete trovare tutti i giocattoli della dell'anniversario di arceus su amazon e varie cose e ok ok adesso si è paralizzato quindi a posto vai divinazione no però gli ha quasi tolto la vita povero raglos però mi fa incavolare arceus perché non si può catturare con l'ultra ball bisogna usare la no no sempre ultra ball perché mi scappa sempre la ultra ball dai dai ma dai però che palle cioè ma ancora rinfrescata cioè io non capisco vabbè in tal caso raglos sta quasi male sta usando ripresa no non ti curare ti prego e infatti non si è curato si è curato regolo su usa tua onda raga pokemon platino se volete catturare arceus dovete prendere il plato del cielo e suonarci e suonarci sopra concludo questo torno subito questo è pokemon platino è difficile catturare il dio arceus c'è un modo per potete pronunciarlo come volete arceus nel sito si dice arcaus archius arceus archias e poi basta concludo qua pokemon platino ciao ciao